Chi è il più grande nel Regno dei Cieli? Il Regno dei Cieli, così come è inteso da questi discepoli che lo chiedono a Gesù, è il Regno della potenza di Dio e dunque chi sta a fianco a Dio è il più grande tra i Suoi servitori e il più importante di tutti gli uomini. E noi siamo così veramente distorti in questo modo di pensare come i discepoli antichi perché pensiamo voglio essere grande nel servire il Signore e dunque questo significa che io divento importante, divento superiore. Diventare più grandi vuol dire che io sono di più di uno che è più piccolo. Avere più importanza, più capacità, più meriti, più incarichi, più ricompense, più tutto insomma. Essere nel gruppo di comando vuol dire avere tutti i benefici nel gruppo di comando. Questo tipo di ambizione può essere santa ma può essere anche da peccatori perché noi diciamo vogliamo essere importanti per esempio nella Chiesa, no? Mi do da fare per questo e per quell'altro però in realtà il mio essere importante, il mio essere importante, il voler essere questo o quell'altro è il Dio che io sto osservendo. Io sto osservendo a me stesso. Giuda è uno di questi, uno dei dodici e per quanto fosse stato in qualche modo educato da Cristo, provato in qualche modo in questo non riesce a sganciarsi da questo. Per lui Cristo era l'opportunità di diventare importante stando a fianco a una persona più importante. prima stava con quelli del Tempio poi passa Gesù perché capisce che è il Messia poi quando vede che questo Messia è un Messia che si lascia schiaffeggiare umiliare, che non ha potere, non è considerato dai grandi nessuno si inchina di quelli che sono importanti sulla terra davanti a lui ecco che gli diventa odioso ed ecco perché lo tragiuda, anzi diventa impossibile. ma anche agli altri che servono se stessi nel senso che io seguo la mia ambizione e questo è il mio idolo, il mio Dio perché adesso è una persona importante Gesù dice in verità io vi dico se non vi convertirete, non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli cioè vuol dire rimanete fuori anche se siete i miei discepoli in realtà non lo siete perché non state diventando come me essere discepoli di Cristo vuol dire diventare simile a lui nell'azione, nell'intenzione e nella trasformazione del nostro essere quindi voi non entrerete, sarete fuori molti cadono in questa trappola sì io voglio diventare una persona importante nella Chiesa perché da quella posizione importante potrò fare molte cose buone in realtà questa è la scusa per dire ammi il posto alto per l'ambizione per gli onori, per la considerazione che tutti devono avere di me e per l'obbedienza che gli altri devono avere di me è un posto di potere non è un posto come quello che Gesù fa Gesù sta per salire sulla croce questo è il suo servizio non è semplicemente svolgere una mansione molti nella Chiesa svolgono delle mansioni che chiamano servizio ma con questa parola spesso si vuole nascondere la volontà di quel servizio che è quel ministero così importante ma il vero servizio è quello di chi si sacrifica per gli altri sacrificando la propria vita il proprio essere le proprie volontà anche i propri diritti perché qualcun altro viva riceva la parola di Dio possa ricevere i sacramenti possa entrare nella vita eterna allora questa parola anche è del profeta che viene detta raccontata quando il Signore gli appare parliamo del profeta Zecchiele dice il Signore figlio dell'uomo ascolta ciò che ti dico non essere ribelle come questa genia di ribelli apri la bocca e mangia ciò che ti do gli dà questo rotolo rotolo dove si è scritto dentro lo spiegò cioè lo apre era scritto da una parte e dall'altra conteneva lamenti, pianti, guai che sono le profezie ma sono anche i lutti che il popolo di Dio provoca per il comportamento cattivo che si ha bene mangia questo rotolo lui lo mangia e all'inizio c'è la dolcezza della parola di Dio poi nelle viscere amaro ma perché è amaro? perché il profeta è costretto a dire il lamento di Dio sul suo popolo e questa è amarezza perché l'amarezza è frutto del cattivo comportamento del popolo di Dio l'amarezza di Dio entra nella profondità del profeta allora Dio soffre soffre del peccato degli uomini perché lo vuole salvare la sofferenza di Dio diventa una sofferenza fisica come nel profeta in Cristo che prende un corpo umano allora il Cristo che soffre umiliato, deriso, perseguitato, ucciso, crucifisso maledetto da tutti quanti questa sofferenza di Dio che diventa fisica è ciò che comporta la salvezza di chi è nel peccato allora la grandezza davanti a Dio è l'assumere la sofferenza per il peccato degli uomini per essere colui che è fedele davanti a Dio e ripara il peccato degli altri per la tua preghiera, la tua fedeltà non guardo tutti quelli degli altri perché tu soffri della sofferenza degli altri ma sei qui a pregarmi, ad essere fedele per la tua fedeltà unica dice al figlio e per quella di tua madre si può aggiungere io salverò questa umanità che non lo merita allora il primo posto è farsi simile a Cristo che patisce per al posto di tutti i peccatori e ne porta le conseguenze la sofferenza fisica e spirituale, morale cioè che il Cristo uomo porta è la conseguenza del peccato degli altri quelli che invece gli dicono chi è il più grande nel Regno dei Cieli chi siederà alla tua destra, alla tua sinistra non cercano questo chiamano dunque servizi luogo di potere perché spesso questa cosa avviene perché questo dà soddisfazione personale che cosa troviamo in questo rispetto alla croce di Cristo? quando noi ci mettiamo una croce al petto significa che io sono un uomo di potere perché sono alto nella gerarchia o perché porto più degli altri la sofferenza di Cristo nel mio corpo, nella mia vita sul mio spirito e si fa piccolo come questi bambini perché questi bambini non hanno queste ambizioni non sono una genia di ribelli non vogliono quello che voi volete non vogliono comandare vogliono stare con il Cristo con Dio loro si salveranno voi no se non vi convertirete per questo guai a voi se corrompete questa santa innocenza dei piccoli perché il Padre non vuole che nessuno di questi piccoli si perda io sono venuto non per i piccoli che sono innocenti davanti a Dio sono venuto per quelli che sono perduti quelli come voi sono perduti perché non ascoltano a vostra e il pastore faccio dire la mia voce pago per loro i peccati che hanno ma questi devono rispondere e dire sì signore ho peccato voglio diventare come uno di questi piccoli chiediamoci quanti di noi così nella Chiesa fanno questo percorso o non è forse una rampicata alle rappresentanze l'essere importanti il dire il fare il decidere il potere non è forse questo e il Signore dice ancora una volta noi se abbiamo questo spirito non entrerete nel Regno dei Cieli salutato Gesù Cristo